ah yeah one two as a funk press mi raccomando vi aspetto a cosenza live and direct 2 febbraio giovedì per il party quinto birthday party del crew dei regas di cosenza live and direct la mezza è nella casa al b side via fratelli bandiera 98 so one lock as a funk press nella tua zona bubblen harmony